Mi spiegate qualcosa? È un bel bordello. Se devi fare un culto. Vuoi rapinare una banca? Tutti saluti per terra! Assicurati di avere il compagno giusto. Tu mi stai fregando, bello mio. Tu vuoi essere fregato? Se voglio, sei morto. Hai fregato i soldi della CIA. Con Denzel Washington. Quando sarà finito tutto, ti spara lo stesso. E Mark Waugh. Ci daranno la cazza fino ai confini del mondo. Cani sciotti. Non se lo accolgo è ancora valido. Domenica alle 21.30, su TV8. Grazie a tutti.